Sì, grazie Presidente, sono molto attento invece ad ascoltare le indicazioni e anche le parole dell'opposizione. Come appunto detto, il Tarre si è pronunciato in modo molto palese, molto chiaro, perciò insomma non ci resta che dare seguito a quella volontà politica che era mirata proprio allo spegnimento di quell'antenna per la tutela dei ragazzi. E anche e soprattutto dei bambini piccoli che frequentano quella scuola. Ricordiamo che comunque la Commissione Ambiente ha svolto due commissioni, insieme ai comitati, insieme ai genitori, per affrontare di petto questa questione. Ringraziamo comunque il Tarre che in qualche modo ci aiuta e ci sostiene su una scelta che dal punto di vista tecnico è doverosa. Perciò non ci resta che votarla a favore, sperando comunque di trovare poi una risoluzione anche sulle altre questioni e sulle altre antenne che chiaramente non rispettano i parametri di leggi sul territorio capitolino. Grazie.